Hanno chiesto più organico per continuare a garantire ai cittadini prestazioni e servizi dipendenti dell'Inps Scaligera che stamattina si sono trovati dalle 10 alle 11 a protestare davanti alla sede dell'ente. Il presidio è stato organizzato dalle sigle sindacali a seguito della mancata assegnazione di personale a Verona dopo il concorso pubblico nazionale. In questa sede nonostante il massimo impegno nel cercare di far fronte a tutte le richieste non si intravede alcuna possibilità che la situazione possa migliorare, recita il comunicato stampa dei sindacati, che hanno parlato della situazione veronese come la più grave del Veneto con una carenza di circa 80 dipendenti.